ciao a tutti ragazzi e bentornati in una nuova tier list questo format vi sta piacendo tantissimo ho visto che le prime due tier list che ho portato in questa stagione sono andate super 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 bene quindi vi ringrazio ovviamente ogni 2000 like a questo video arriva una nuova tier list e quindi vi dico subito che a 2000 like a questo stesso video arriverà la prossima adesso vi spiego che cos'è questa e quale potrebbe essere la prossima queste sono le partite che abbiamo giocato quest'anno nella prima parte di stagione quindi da agosto fino a fine 2021 oggi andiamo a metterle in questa speciale classifica che non va a riguardare il risultato quindi com'è finita la partita ma quelle che sono state le mie sensazioni guardando la juventus e quindi se mi sono divertito se sono stato veramente contento se è stata una partita normale come magari tante altre se è stata una partita giocata male brutta che non mi ha dato emozioni o se è stata veramente il disastro assoluto dove non si poteva fare peggio e ovviamente la prossima tier list sarà quella con il ritorno quindi da inizio gennaio in poi sono curioso di sapere se anche voi avete questa stessa sensazione inerente a queste partite che abbiamo giocato e quindi come al solito vi lascio la tier list da poter compilare qui sotto in descrizione potete fare la stessa cosa non so se vi ricordate bene o male tutte le partite spero di sì cercherò di fare anche una breve introduzione per raccontarvi come era andata e dirvi perché una determinata partita viene ficcata in una di queste categorie Last Juventus 0 a 2 allora devo dire la verità questa partita mi era piaciuta tanto perché eravamo riusciti a concedere davvero poco alla Last tra l'altro una partita un po' in difficoltà perché avevamo dei giocatori fuori una partita vinta 2 a 0 su calcio di rigore doppietta di Leonardo Bonucci devo dire però che la Juventus mi aveva convinto e questa secondo me è una di quelle che va in molto bene è stata una delle partite in cui veramente ho pensato abbiamo fatto un passo in avanti anche perché vincere a Roma contro la Lazio sicuramente non è mai facile ed è vero che la Juventus ha fatto due gol su calcio di rigore però la prestazione non mi era dispiaciuta Malmo Juventus 0 a 3 questa è stata la nostra prima vittoria stagionale la nostra prima partita in Champions League e forse anche una delle partite che mi ha divertito di più in assoluto anche questa la metto in molto bene addirittura gol di Alexandro era nel periodo in cui Alexandro mi sembrava un calciatore della Juventus un calciatore veramente ritrovato poi sappiamo tutti com'è andata però Malmo Juventus 0 a 3 è stata veramente una partita figa poi è vero che chiudiamo tutto nel primo tempo nel secondo non riusciamo a dare continuità però per quello che avevamo visto mi ero divertito poi ovviamente c'è da realizzare il fatto che il Malmo ovviamente non è una grandissima squadra e infatti al ritorno io ero presente purtroppo è Malmo Juventus Juventus Malmo 1 a 0 io ve la metto in molto male la vinciamo 1 a 0 con quell'assist di Trivela di Bernardeschi per il gol di Moise Ken l'8 di dicembre con un freddo della Madonna con la neve a Torino uscire da lì con l'1 a 0 meno male che poi Zenit e Chelsea hanno fatto 0 a 3 si è riusciti a passare come prima del girone poi a fin della fiera in realtà non è servito a niente perché purtroppo siamo riusciti a uscire lo stesso gli ottavi con il Villareal una squadra anche abbastanza abbordabile sulla carta di quella che era un'ipotetica estrazione è andata così però Malmo Juventus è stata decisamente brutta invece Juventus-Atalanta 0 a 1 dove abbiamo perso per quel gol di Duvan Zapata con l'appoggio sbagliato di Morata a centrocampo io vi dico che quella partita la ficcio inaccettabile perché è vero che l'abbiamo persa è stata una partita in cui addirittura rischiavamo di tagliarci fuori ogni discorso Champions perché l'Atalanta in quel momento era la squadra che dovevamo rincorrere, perdere, un sconto diretto è sempre brutto io ve la metto inaccettabile perché per me questa è stata una delle prestazioni non dico migliori però forse più convincenti della Juve nella prima parte di stagione poi purtroppo il risultato è stato quello che è stato però la Juventus non mi era per niente dispiaciuta poi c'è Bologna-Juventus 0 a 2 qua l'ho vista in Sardegna insieme a Chino eravamo al matrimonio di Lello vista per modo di dire in realtà perché c'era una nebbia incredibile a Bologna e quindi si era visto poco della partita non una gran partita se proprio devo dire la verità dove ve la metto questa? io questa ve la metto in male ragazzi ve la metto in male che poi molto male mi sembra eccessivo facciamo che questo è male questo è bene e questo battezziamolo una via di mezzo insomma qualcosa di così male, bene, diciamo che Bologna sì, dai non è stata una delle nostre migliori partite direi proprio di no Cagliari invece Juventus-Cagliari 2 a 0 ve la metto in um perché è stata una partita non terrificante una partita secondo me buona dove la Juventus si rischia perché c'è stato mi pare un colpo di testa di João Pedro parato da Scesni che poteva mettere tutto in discussione però è una partita che bene o male noi abbiamo gestito abbastanza bene non mi era dispiaciuta troppo sì, non stai neanche parlando di calcio e champagne ve la metto lì invece Juventus-Celsea 1 a 0 io ve la metto in godicchio sì, perché è stata una partita secondo me veramente bella una partita tattica in cui Allegri ha dominato su Tuchel nonostante una partita comunque in cui abbiamo cercato di difendere il risultato una partita che per un attimo in quel momento della stagione mi ha fatto pensare ok abbiamo fatto davvero uno step in avanti è un passaggio importante battere i campioni d'Europa in carica in casa nostra in piena emergenza noi non avevamo attaccanti se ricordate quella partita parte con Bernardeschi e Chiesa in attacco e sono proprio Bernardeschi e Chiesa a confessionare il gol del 1 a 0 una partita in totale emergenza contro una squadra decisamente più forte in cui riusciamo a vincere quindi quella partita lì mi era piaciuta tantissimo e invece se da una parte c'è godicchio l'andata il ritorno a Londra Chelsea 4 e eventus 0 ragazzi qua è un po' difficile andare al di là del risultato perché è stata una delusione incredibile con 4 centrocampisti in fila a centrocampo un 4-4-2 che veramente era una roba più ci penso anche adesso quella partita lì e più dico ma allegri ma come ti era venuta in mente una roba del genere male 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 non voglio nemmeno tornarci sopra e in disastro mi dispiace devo ficare anche Juventus Empoli 0-1 ero allo stadium la prima partita in casa di ritorno dal covid che ricorderete una delle prime partite in cui si poteva andare allo stadio la prima partita di quest'anno la prima partita post-ronaldo la prima partita di ritorno di allegri allo stadio d'allenatore un disastro letteralmente un disastro poi eravamo una squadra a cui mancava ancora qualcosa e quel qualcosa poi è stato Moise Ken quindi sarebbe poi continuato a mancare qualcosa una partita brutta decisamente brutta anche qua formazione un po' particolare quel rombo a centrocampo con McKennie dietro di Bale e Chiesa non lo so una roba brutta Juventus Fiorentina 1-0 gol di quadrado all'ultimo secondo ve la metto in male 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 perché quella partita era stata decisamente brutta e giocata male dalla Juventus è inutile prendersi in giro poi per fortuna quadrado ha trovato quella giocata nel finale ma la partita non era stata sicuramente godibile invece Juventus Genoa 2-0 vedendo che tra l'altro stiamo per per ribeccare il Genoa proprio in campionato vabbè io questa ve la metto in la partita simil Cagliari in realtà un po' meglio rispetto al Bologna quelle con Cagliari e Genoa era lo stesso periodo temporale la partita normale vinta normalmente insomma niente di che invece Inter Juventus 1-1 ve la metto in male decisamente male facciamo il pareggio con quel rigore di Danfries su Alexandro trasformato la Dybala appena entrato Dybala e Chiesa in panchina tutti e due dall'inizio una Juventus molto quadrata che cercava semplicemente di limitare i danni non mi è piaciuta quella partita proprio no poi abbiamo rischiato veramente poco l'Inter a parte il gol di Dzeko forse anche un po' fortunato nello sviluppo Simone Inzaghi nel trovare quel gol ma al di là di quello noi veramente poca 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 roba quindi l'Inter Juventus 1-1 non mi è piaciuta per niente invece Juventus Milan 1-1 che è stata la partita che abbiamo giocato allo stadium dove siamo andati in vantaggio anche all'inizio io questa la metto in bene ragazzi a me è piaciuta sta partita Juventus Milan 1-1 ho un bel ricordo di quella partita lì poi ci siamo spenti nel finale era il periodo in cui nel secondo tempo proprio non c'era modo nel secondo tempo si crollava crollo verticale prendiamo gol mi pare da Rebic su calcio d'angolo dove Locatelli lo perde sulla marcatura purtroppo un episodio così poi tra l'altro Scesni bravissimo a parare un tiro di Calulu che poteva veramente addirittura costarci la sconfitta però quella partita col Milan secondo me eravamo andati bene mi era piaciuta la Juve quella partita lì poi forse questa è la nostra miglior partita anzi pensando all'andata Juventus Zenit 4-2 la migliore per quello che abbiamo mostrato per il gioco espresso per la volontà per la grinta per la cattiveria anche per il numero di gol segnati banalmente se vogliamo però una Juve che prendeva bene l'ampiezza con Chiesa Bernardeschi larghi con Danilo che andava in sovrapposizione a Juventus che andava di rientro da un ritiro perché ricorderete quella brutta settimana pre-Halloween di Halloween con Sassuolo ed è la Sverona quindi la Juve va in ritiro la prima partita che fa in Champions è quella lì prendiamo un gol sfortunatissimo poi sul 4-1 a un minuto dalla fine entra Rugani sbaglia sull'attaccante non mi ricordo neanche come si chiama quell'attaccante il Messi iraniano che stavamo cercando addirittura di prendere a gennaio e fa il 4-2 però nel complesso veramente una bella Juve quella lì invece Verona Juventus 2-1 ragazzi io ve la metto in disastro perché per tutto il tempo in quella partita veramente sentivo di essere sotto mi sentivo costantemente sotto con il solito Simeone che ci fa una doppietta da fenomeni nei primi 20 minuti Di Bala poi che fa una buona partita la pareggia McKennie non riusciamo a rispondere quello è il momento della stagione in cui penso che quei minimi passi in avanti che avevamo fatto invece precedentemente non sarebbero serviti a niente perché eravamo un continuo contrasto forse in quel momento lì quando veramente partiamo male ci rimettiamo a posto e poi torniamo male capisco che sarebbe stata una stagione di alti e bassi Verona Juve è stata veramente brutta poi secondo me Zenit Juventus 0-1 male non so se la ricordate sta partita piena di errori tecnici in un campo non troppo bello come quello dello Zenit gol di Kulusevski verso la fine di testa una partita un po' particolare ragazzi che non mi ha convinto per niente anzi proprio una brutta partita come potete vedere iniziano a esserci tante più partite giocate male smetto a quelle giocate bene nella prima parte di stagione della Juve però era abbastanza prevedibile vedendo come abbiamo chiuso l'andata poi vedremo sul ritorno ovviamente sta a voi vediamo se arriviamo a 2000 like poi Napoli-Juventus 2-1 giocata al Maradona una partita che perdiamo la terza mi pare partita di campionato subito dopo l'Empoli e dopo l'Udinese io questa me la metto in um perché secondo me quella partita non era nemmeno stata terrificante non so se la ricordate era quella partita in cui abbiamo tipo 13 giocatori in movimento con Ken appena arrivato un sacco di infortunati anche giocatori fuori quindi eravamo contati andiamo addirittura in vantaggio per un errore del Napoli e poi non siamo bravi a tenere una papera di Scesni e una papera di Ken perché è ancora inspiegabile quel colpo di testa di Ken regalano i due gol al Napoli però la Juventus secondo me aveva fatto la sua partita per quella che era la dimensione della Juve in quel momento storico e poi c'è la vittoria con la Roma allo Juventus Stadium 1-0 gol di Ken e anche questa ragazzi una partita dai non prendiamoci in giro una partita brutta qua ci salva Scesni invece in quella con il Napoli ci aveva affossato quella con il Milan ancora ci aveva salvato qua Scesni para il calcio di rigore mi pare avere tu sì avere tu quel famoso episodio arbitrale in cui viene fiscato il calcio di rigore prima dello sviluppo dell'azione dove la palla poi carambola in rete Scesni para il rigore avere tu dagli 11 metri mantiene la porta inviolata clean sheet il gol di Moise Ken in cui la palla gli rimbalza addosso su un colpo di testa di Bentancur su un bel cross di Desciglio quindi una partita episodica decisamente brutta la vittoria contro Salernitana per 2 a 0 dell'andata ve la metto in hum perché la classica partita un po' un po' così ragazzi una partita normalissima un po' così e poi iniziano alcune partite di sofferenza pura perché c'è quella con la Sampdoria la vittoria contro la Sampdoria per 3 a 2 lo Viventus Stadium io questa ve la metto in hum perché erano una delle prime vittorie che andavamo a fare mi pare addirittura la seconda vittoria stagionale in Serie A eravamo in un periodo veramente difficile in cui prendevamo sempre gol eravamo in un periodo in cui facevamo una fatica tremenda a fare qualsiasi cosa quindi in quel momento il 3 a 2 con la Sampdoria era giustificatissimo perché noi eravamo lontanissimi dall'essere squadra quindi non è stata nemmeno terrificante però continuavamo a subire qualsiasi cosa da parte degli avversari Juventus Sassuolo 1 a 2 con Vittorio del Sassuolo al novantesimo con gol di Maxime Lopez dopo essere andati avanti con Frattesi noi pareggiamo con McKennie questa ve la metto in male ve la posso mettere in male ve la metto in male per come si è sviluppata cioè subire quel gol al novantesimo dove proviamo ad andare a vincere sul nostro calcio d'angolo con la ripartenza quindi per come è stata la partita di per sé male devo dire la verità quella partita su quella partita dei bei ricordi in apertura nei primi minuti mi sembrava una buona Juve poi scoppiamo ed è appunto la settimana in cui poi andiamo a giocare quella della Sveruna prima di andare in ritiro male perché non siamo stati bravi a gestire determinati episodi però in realtà all'inizio non era nemmeno terrificante poi io ribadisco se prendo gol al novantesimo perché sto cercando di vincerla faccio anche un po' fatica a considerarla così male quella cosa lì però ovviamente poi al suo risalto in quel momento sulla classifica aveva un risalto allucinante poi per fortuna siamo riusciti almeno a colivicarci alla Champions League e la partita con lo Spezia ragazzi copia e incolla rispetto a quella con la Samp la prima vittoria stagionale 3 a 2 con lo Spezia con De Ligt Chiesa tutti i ragazzi che iniziano a metterci la faccia avevamo assolutamente bisogno di quella vittoria lì è arrivata per fortuna una vittoria un po' roccambolesca però i segnali ci sono stati una vittoria normale da parte della Juve male il derby secondo me col Toro dove vinciamo con il gol di Locatelli su Assis di Chiesa pochissimi minuti alla fine 3 minuti alla fine mi pare 87esimo però la partita è stata decisamente brutta una partita in cui la Juve ha fatto troppo poco e poi per fortuna la giocata di Chiesa la giocata di Locatelli ci porta in avanti però una partita che a me sinceramente non è piaciuta e invece vi dico la partita con l'Udinese io ve la metto in un la prima partita con l'Udinese il famoso siamo avanti 2 a 0 e poi la doppia papera di Scesni e poi entra Ronaldo fa il gol del 3 a 2 fuori gioco di 12 magari centimetri millimetri 12 un millimetro qualcosa del genere però secondo me la partita libera è stata abbastanza buona poi è ovvio che non puoi mettere bene perché per forza di cose non sei stato così bravo a gestire determinate cose però nemmeno così male secondo me nemmeno così male e poi c'è l'ultima col Venezia ragazzi 1 a 1 a Venezia da Venezia a Venezia io dopo quella partita lì ricordo faccio un po' fatica a credere alla Champions League c'è una vocina dentro di me che me la fa pensare però faccio veramente un po' fatica e invece col Venezia invece l'ultima che abbiamo vinto e poi il pareggio della Roma per 0 a 0 col Bologna ci dà la Champions da Venezia a Venezia però quella partita male decisamente male è stata una partita dove la Juve non mi è piaciuta per niente dopo che troviamo il vantaggio non siamo veramente bravi a cercare almeno il raddoppio quindi una partita che potevamo sicuramente gestire in una maniera migliore e che a quel punto lì sembrava anche una pietra tombale sul nostro percorso e quindi queste sono le partite dell'andata un'analisi veloce di quelle che sono state le partite e ovviamente se volete anche le partite del ritorno per vedere se siamo migliorati se la mia percezione di quelle partite è migliorata sapete che cosa fare e ovviamente fatemi sapere anche le vostre opinioni fatemi sapere se siete bene o male d'accordo con questa considerazione o se secondo voi una determinata partita è stata giocata male e io invece l'ho percepita come buona oppure viceversa se avete una partita che dite no no questa qua è la miglior partita del mondo invece io ho detto no ha fatto schifo fatemelo sapere grazie a tutti grazie a tutti